Ciao! Ti sei già iscritto al nostro canale? Allora andiamo a vedere il nuovo volantino. Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore. Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Ehi, lo sai che se arriviamo a 20.000 iscritti pianteremo un nuovo albero? Dai! Iscriviti anche tu! Su trovavolantino.it, le offerte della tua città a portata di invito. Vuoi vedere un altro volantino? Scopri subito su trovavolantino.it O a un prodotto su musica su amore.it Non vuoi mengello.it, le offerte della tua città a portata di invito. Ehi, se ne vediamo il proprio cammino in alto a destra. Non vuoi ma sia perché la preso del macello vuole.it, le offerte della tua città a l'emerre. Sedmisiome a fare dei tempi.it, le offerte del confettino.it, le offerte del confettino.it, le offerte delle conoscette.it.it. Il abitore del fondo a destra.it, le offerte dei tempi.it, le offerte delle tempi.it.it. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.